Ecco, stiamo entrando alla Valletta Malta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nave entra giusta giusta, non è troppo largo. Grazie a tutti. La nave è svegliata. Buona. La nave è svegliata. La nave è svegliata. E sopra le cannoniere, in parte l'ascensore. La nave è svegliata. Buona.